Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento in diretta con l'informazione di Udine News TV. Apriamo con le notizie di cronaca, con alcune operazioni dei carabinieri. Cominciamo con quelli di Udine Est, perché hanno ritrovato in pronto soccorso un 37enne di etnia Roma, il quale però aveva l'obbligo di dimora nel comune e di permanenza presso il proprio domicilio. È stato rintracciato in ospedale e in quel momento ha inveito e minacciato immotivatamente i militari operanti che l'hanno denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Carabinieri all'opera anche a Fagagna per due situazioni diverse. La prima, una denuncia di due uomini di 42 e 66 anni, entrambi della provincia fiorentina. Online avevano venduto a un fagagnese un seggiolone da bambino, senza però poi mai consegnare la merce dopo aver intascato la somma di 90 euro. Quindi denunciati per truffa in concorso. Due donne invece sono state denunciate sempre a Fagagna per diffamazione, perché una 36enne e una 52enne della zona avevano insultato e diffamato un'altra donna su Facebook che le ha denunciate e quindi sono state appunto denunciate in stato di libertà per diffamazione. Infine a Gemona delle Friuli, truffa, denuncia a una cinquantenne della provincia veneta, anche qui si era fatto accreditare una somma di 1200 euro per l'acquisto di un camper e non ha mai consegnato la merce pattuita. A Pordenone sono stati rintracciati due uomini di 24 e 27 anni, arrestati in Romania, dove erano fuggiti su ordine di custodia cautelare emesse dal tribunale di Pordenone. Sono accusati di far parte della banda di ladri che aveva preso di mira lo scorso anno alcuni centri commerciali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le indagini erano scattate dopo il furto aggravato avvenuto a Pordenone nella notte dell'8 marzo scorso e danni di una rivendita di elettronica ed elettrodomestici. Avevano sfondato la porta d'accesso con l'auto rubando 74 smartphone per un valore complessivo di 42 mila euro. Dopo l'inseguimento con le auto invece si è dovuti arrivare a un mandato di arresto europeo. Alla fine i due cittadini romeni sono stati estradati e consegnati alle autorità italiane. Andiamo adesso a Trieste dove c'è un caso di scabbia, un'epidemia di scabbia per dire il vero. All'interno dell'azienda pubblica di servizio alla persona ITIS c'è stato un incontro al quale ha partecipato anche il vice governatore Riccardo Riccardi per fare il punto in seguito a questi casi che sono circa una quarantina, comprendono sia le persone anziane ospitate all'interno della struttura che gli operatori. In un quadro generale comunque della realtà di Trieste che ha visto nel 2018 triplicare i numeri di questa patologia rispetto all'anno precedente. Il vice governatore ha assicurato che si sta cercando di approfondire le ipotesi emerse su quelle che possono essere le ragioni di questa diffusione. Comunque la situazione all'interno della struttura è sotto controllo. A Pordenone invece la prima partenza dei vigili del fuoco di questa mattina è stata per soccorrere un gatto con la coda incastrata nella cinghia di distribuzione di una autovettura. I vigili del fuoco hanno smontato con cautele i componenti e sono riusciti a liberare. Lo sfortunato animale si era riannicchiato la notte precedente sotto la vettura per restare al caldo. E' stato poi affidato ai proprietari che lo hanno portato dal veterinario per le necessarie cure. E adesso veniamo alle news che arrivano dalla Regione. Arriva infatti un fondo di garanzia per le aziende della filiera della casa, un sostegno a tutto il comparto, non solo alle imprese del distretto, del mobile e della serie. Vediamo. Dalla Regione sono in arrivo circa 2 milioni di euro per la concessione di garanzia alle imprese della filiera produttiva della casa, una platea potenziale di 12 mila aziende. La novità è quindi che il fondo di garanzia, inserito nella legge di stabilità, non sarà più solo rivolto alla realtà del distretto, del mobile e della sedia. I beneficiari potranno così realizzare iniziative nel settore dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e del rinnovamento dei sistemi produttivi, oltre che per lo sviluppo e il consolidamento aziendale. Abbiamo voluto dare dimostrazione di aiuto concreto di vicinanza della Regione alle imprese del nostro territorio. Uno dei settori che ha risentito di più della crisi negli anni precedenti è quella della filiera della casa, un'importantissima filiera in grado di racchiudere all'interno di sé circa 12 mila imprese. Cosa abbiamo voluto fare tecnicamente? Abbiamo voluto ampliare quello che è il fondo di garanzia utilizzato tramite confidi imprese FVG e confidi Friuli all'intera filiera della casa e non solo al distretto del mobile, al distretto della sedia, come era fino a prima del nostro intervento. Genererà un volano, un circuito virtuoso che metterà in circolo oltre 20 milioni di euro di finanziamenti e di fatto andremo ad ampliare quelle che sono le tipologie di imprese aiutate. Aiuteremo non solo costruttori e progettisti di impianti, ma fabbri, ma elettricisti, insomma tutta l'intera filiera della casa. Arrivano dei fondi dedicati ai comuni sotto i 20 mila abitanti, anche per la nostra regione un decreto sbloccato dal Ministero dell'Interno. Vediamo come funzionerà. Sono 210 le amministrazioni comunali del Friuli Venezia e Giulia che usufruiranno dello sblocco di fondi dal Viminale a favore degli enti locali. In arrivo per i comuni della nostra regione oltre 11 milioni di euro assegnati agli enti in misura differenziata sulla base della popolazione. Ad usufruirne solo i comuni con meno di 20 mila abitanti che potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere. Tra i comuni che ricevono i contributi spiccano 18 amministrazioni che potranno beneficiare dell'arrivo di 100 mila euro, tra cui Cervignano, Cividale, Codroipo, Giomona del Friuli, Latisana, Tavagnaco e Tolmezzo, altri che ne riceveranno 70 mila, 50 mila o 40 mila. In Friuli, Venezia e Giulia hanno ricevuto lo stanziamento ben 23 comuni in provincia di Gorizia, 49 a Pordenone, 5 a Trieste ed infine 133 a Udine. A darne notizia direttamente il ministro Matteo Salvini, che ha scritto anche una lettera agli oltre 7 mila sindaci italiani interessati dal provvedimento. Una mano concreta ha definita così il ministro alle comunità locali e ai loro territori, la cui attenzione pratica sarà supportata dagli uffici del Viminale per cercare di ovviare a potenziali difficoltà in fase di applicazione. Per le amministrazioni locali del Friuli Venezia e Giulia credo sia davvero una bella occasione. Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministro dell'interno e gli enti locali, conclude Salvini. E a proposito di enti locali, questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco di Cormons Felcaro per parlare delle aggregazioni in vista, un tema che preoccupa molti sindaci, soprattutto nell'Izontino e nella destra Isonzo. Cormons insieme a Dolenia è il comune capofila per la candidatura del Coglio all'UNESCO, una candidatura importante perché è congiunta con tutta la parte slovena, quindi un punto di forza sicuramente per questa candidatura. A che punto siamo su questo percorso? Buongiorno, siamo a buon punto nel senso che i corrispondenti comitati tecnico-scientifico italiano e sloveno hanno elaborato veramente a tempo di record con un grandissimo sforzo il dossier che è stato presentato presso il Ministero dei beni culturali a Roma per la valutazione di quelli che sono i contenuti di questo dossier, per poi fare una valutazione anche con gli altri ministeri interessati e quindi poi dopo valutare quello che è il percorso per poter arrivare poi alla tentative list dove ufficialmente entreremo nella candidatura dell'UNESCO. Devo dire che è stato un grande lavoro d'Equip, un grande intervento da parte della Regione anche dell'assessore Gibelli che sicuramente ha messo molto del suo anche per verocizzare quelle che sono state le pratiche per questo tipo di progetto, sicuramente una menzione va fatta al consigliere regionale Bernardis, ex sindaco di Dolenia che è stata insomma la mente promotrice ai tempi del progetto e sicuramente un grandissimo lavoro da parte del nostro comitato tecnico-scientifico italiano che ripeto insieme al comitato sloveno hanno fatto in tempi record, insomma hanno redatto questo progetto a seguito di quelle che sono state le indicazioni anche del Ministero dove ci siamo recati e ci hanno dato le dritte e le giuste indicazioni per poterlo presentare nel miglior dei modi. Quando pensate di avere una risposta, di sapere qualcosa quantomeno? Ma i tempi purtroppo per questo genere di progetti non sono brevi, sappiamo perfettamente che la presentazione di questo progetto per adesso formalmente ha chiuso diciamo così un primo step. Siamo in fase di costituzione, siamo alla fine fase di costituzione di un'associazione temporanea di scopo che raccoglierà tutti gli enti pubblici, i soggetti privati, la Camera di Commercio della Venza Giulia proprio perché vogliamo creare un ente a sé stante capace poi di correre velocemente e di seguire quelle che saranno le dinamiche di questo progetto importantissimo per un territorio che io credo lo meriti. E quest'oggi si è aperta la 53esima edizione di Agriest. Cervamo anche noi abbiamo raccolto diverse voci con il Presidente di Udine e Gorizia Fiera. Abbiamo fatto il punto sul futuro dell'ente. Vediamo. Agriest 2019. Quali le caratteristiche della Fiera quest'anno? Noi ormai siamo come dicevo prima dal 1967 che portiamo avanti e accompagniamo il mondo dell'agricoltura nello sviluppo e nell'aiuto agli imprenditori e agli operatori e quindi è un settore in continua evoluzione dove noi costantemente, noi ormai è biennale questa mostra ma come dico è da oltre mezzo secolo che è sul mercato, credo che dopo Verona sia una delle più importanti fiere del nord-est, dell'Italia del nord e quindi l'accompagnamento e seguire quelle che sono l'evoluzione del mercato, l'evoluzione delle macchine, della tecnologia nel settore dell'agricoltura, noi l'accompagniamo costantemente di anno in anno anche se però di come dico lo vediamo biennale. Come avete trasformato la Fiera per essere al passo con i tempi? Da questo punto di vista stiamo modernando i padiglioni fieristici, abbiamo recentemente la settimana scorsa approvato tutti i progetti di ristrutturazione per cui nell'arco di un anno o due questo annoso situazione che si stava portando avanti l'abbiamo risolta, quindi credo che col mese di penso giugno dovremo incominciare i lavori di ristrutturazione per step e quindi la vogliamo rivoltare come un calzino per essere al passo con i tempi. Sarà quindi più tecnologica, più funzionale? Esatto, è molto più gradevole, molto più a servizio sia degli espositori che dei visitatori. Quando pensa quindi che si potrà avere la Fiera nella nuova versione? Ma già con il 2020 credo che alcune situazioni particolari le vedremo già, per cui nell'arco di un paio di anni noi pensiamo di fare tutti gli investimenti che abbiamo in corso. E' arrivato anche un comunicato da parte della Giunta Fontanini in merito al referendum per via Mercato Vecchio. Dopo una riunione con gli assessori, al fine di esaminare il testo del quesito referendario, il sindaco Pietro Fontanini ha detto che è impossibile riunire i vari quesiti in un election day perché c'è una legge, un regolamento relativo all'istituto del referendum e modificato nel 2016 dal Consiglio Comunale e quindi questo tipo di consultazione può essere svolto solo nei mesi di giugno e di dicembre e quindi non potrà essere svolto durante le elezioni europee come auspicato dal comitato. E proprio in relazione al comitato proponente la Giunta dice che c'è una sostanziale condivisione, quindi c'è la volontà di richiudere via Mercato Vecchio al traffico però in un'ottica di più ampio respiro che intenda il centro storico nel suo complesso andando dalla valorizzazione del castello alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico senza appunto escludere la possibilità di una completa pedonalizzazione della via. Adesso ci spostiamo di nuovo in esterna con uno dei nostri collegamenti, siamo in linea con Angela Accaino dalla sede dell'Arcivescovado di Udine perché parliamo della giornata mondiale della gioventù a Panama. A te Angela e buon pomeriggio al tuo ospite. Ciao Valentina e un saluto anche a tutti i nostri telespettatori. È iniziata infatti la giornata mondiale della gioventù a Panama, 34esima edizione. Noi siamo assieme a Giovanni Lesa che è segretario della pastorale giovanile della diocesi di Udine perché c'è anche qualche friulano in questi giorni a Panama. Purtroppo la location di questa giornata mondiale della gioventù non ha favorito la partecipazione. Giovanni ci ricordavamo i 400 ragazzi che hanno partecipato all'ultima giornata, quella in Polonia. Sì sì eravamo 400 solo dalla diocesi di Udine per un totale invece per la regione Friuli-Venezia-Giulia di circa un migliaio di partecipanti. Quindi altri numeri rispetto a quest'anno in cui la giornata mondiale della gioventù si svolge a gennaio quindi un periodo non proprio agevole per chi è giovane, studia, lavora eccetera e soprattutto una location abbastanza fuori mano che è Panama. Dall'altra parte del mondo però i friulani sono comunque presenti, quanti sono Giovanni? Sì c'è un gruppetto dalla nostra diocesi vicina di Pordenone. All'interno di questo gruppo ci sono anche due ragazzi in esigua rappresentanza però ci sono ecco dalla diocesi di Udine, Ivan e Giulia che salutiamo anche. E chissà se ci vediamo magari via streaming di Gonars, giusto? Sono di Gonars entrambi, sì 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 sì. Perfetto, quindi si va oltreoceano per questa giornata mondiale della gioventù che richiama ogni anno migliaia di giovani. Il messaggio di quest'anno qual è il messaggio che ha voluto lanciare Papa Francesco? Il messaggio di quest'anno è legato alla figura di Maria, Maria la madre di Gesù. Infatti il titolo della GMG, della giornata mondiale della gioventù appunto è preso da un episodio di Vangelo in cui Maria è protagonista quando l'angelo appunto le ha annunciato che lei avrebbe dato alla luce appunto un bimbo un po' speciale, un po' particolare appunto a Gesù. Il messaggio è dato proprio da questo sì, da questa accettazione dell'invito che Maria fece all'angelo quindi trasponendo poi questo nella vita dei ragazzi è anche l'accettare quello che è il messaggio che Dio ci vuole dare anche oggi a ciascuno. Perché è stata scelta Panama come sede di questa giornata mondiale della gioventù? Appunto, inusuale no? Come destinazione, però Panama ha una peculiarità, una caratteristica che è quella di essere un ponte tra due continenti, un ponte tra due mondi. Nel pensiero di Papa Francesco, un pensiero sempre molto attento agli ultimi, alle periferie, al costruire ponti, direi che insomma questa logica entra pienamente per cui ecco che la scelta di Panama è dovuta proprio al fatto che sia uno stato piccolo ai margini della grande geopolitica, però uno stato di collegamento tra due mondi veramente molto ampi che sono il nord e il sud America nella fattispecie. Ecco, uno stato difficile da raggiungere per gli europei, per anche i friulani e proprio per questo avete organizzato una giornata mondiale della gioventù in salsa friulana possiamo dire sabato e domenica a Pasean di Prato. Raccontaci velocemente quello che accadrà. Sì, sabato 26 e domenica 27 gennaio la parrocchia di Pasean di Prato ospiterà una giornata mondiale della gioventù che non è mondiale ma è friulana quindi regionale o meglio diocesana con circa un centinaio di giovani provenienti da diverse parrocchie della nostra diocesi. Sarà un modo per vivere in sintonia il messaggio del Papa, infatti faremo un collegamento in diretta durante la notte per vedere anche l'incontro con i giovani che farà Papa Francesco ed è un modo per essere appunto in comunione, in vicinanza con chi invece sarà fisicamente presente a Panama. In attesa di sapere dove sarà la prossima giornata mondiale della gioventù che verrà svelato il sito al termine degli eventi di domenica, giusto? Quindi aspetteremo domenica anche per sapere dove sarà la prossima GMG internazionale presumiamo tra tre anni circa, due o tre anni al massimo insomma sarà la prossima GMG, lo sapremo domenica. Ecco, appuntamento quello di domenica aperto anche a tutti perché ci sarà una messa a cui potranno partecipare tutti. Sì, esatto, l'appuntamento finale di questa due giorni friulana è la messa appunto della domenica che sarà celebrata nella chiesa di Pasigliano di Prato alle 14.30 ed è un appuntamento aperto a tutti quindi chiunque può partecipare a questa celebrazione, non solo quindi i ragazzi partecipanti a questa iniziativa. Grazie a Giovanni Lesa, Valentina vi situiamo la linea. Grazie, grazie Angela per averci raccontato questo aspetto della vita sociale della nostra regione. Adesso parliamo di un accordo che lega Trieste in particolare con il MIT di Boston, l'MIT per dire la verità, per dirlo in inglese. Oggi la presentazione di questo accordo, un'iniziativa partita nel 2017 di durata triennale con la cooperazione proprio tra le università di Udine e Trieste e la Sissa con il prestigioso istituto americano. Il tema non è tanto e solo le università ma il rapporto di collaborazione con i sistemi di eccellenza che ci sono al di fuori di questa regione. Questa regione negli anni è riuscita a imparare un po' a fare sistema tra le università ora deve impararlo a fare anche con i sistemi degli istituti tecnici superiori, con quello delle scuole, con il sistema della formazione e su questo ci stiamo muovendo per ampliare e per rendere produttivo questo accordo. Assessore, è un'iniziativa che proprio l'amministrazione regionale attuale ha voluto ampliare anche agli istituti superiori della regione nell'ambito di questa collaborazione con il MIT? L'abbiamo ampliata chiedendo agli studenti del MIT di Boston di venire ad insegnare per tre settimane nelle scuole superiori della nostra regione materie scientifiche. Questo perché sono convinta che far conoscere al di fuori di questa regione le eccellenze della nostra regione ma portare anche questa nostra regione in un percorso internazionale sia il dato più importante sul quale la politica può intervenire. Passiamo allo sport con i buoni risultati di Elisa Vittozzi e anche di Dorotea Wierer nella gara di quest'oggi. sprint da 7,5 km femminile nella sesta tappa della Coppa del Mondo ad Anterselva in Italia. Tre giorni consecutivi di gara e quinta Elisa Vittozzi, invece ottava Dorotea Wierer. La Vittozzi a questo punto in classifica generale si porta quasi alla pari della Wierer guadagnando 6 punti sulla collega. Ora le distanziano solamente 4 punti e le zurre hanno anche guadagnato sulle slovacche Kuzmina e Fialcova. Invece sempre rimanendo con lo sci straordinario trionfo per Luca del Fabbro nella 30 km tecnica classica must start dei campionati mondiali juniors di sci di fondo in Finlandia il 19enne ora le fiamme gialle dopo essere cresciuto nell'ASD Montecoglians si è imposto al termine di una emozionante volata A4 precedendo di pochi decimi un norvegese, lo svizzero e l'americano che l'hanno seguito. Un risultato eccellente in una carriera più che promettente conferma anche della bontà del movimento del fondo regionale. Adesso parliamo di Udinese, ritorniamo in collegamento in esterna alla Dacia Arena con Jacopo Romeo. Buon pomeriggio Jacopo. Ciao Valentina, buon pomeriggio a te ancora in diretta qui da Dacia Arena. Squadra che è scesa in campo questa mattina per il penultimo allenamento in vista della trasferta di Genova. La notizia è che Camilla Zagna si è tornato a regolarmente allenare insieme a tutti i compagni dopo due giorni di lavoro individuale. Segnare che il fastidio e il problema alla spalla è praticamente quasi messo alle spalle, perdonami il gioco di parole. È stata una seduta molto lunga, oltre due ore in campo per le ultime prove tattiche e per le indicazioni da parte di mister Davide Nicola per preparare la trasferta di Genova. Una partita che ci metterà di fronte una squadra tra le più in forma del campionato. La Sampdoria contro un Quagliarella scatenato e soprattutto contro un allenatore Marco Giampaolo che sta facendo davvero tanto bene. Sarà un bel confronto perché sono due dei migliori allenatori della generazione di mezzo del calcio italiano. Giampaolo e Nicola anche in tal senso potrà essere un confronto stimolante. Poi per Nicola che ha dato tanto da giocatore al Genova, all'altra sponda cittadina, sarà una sorta di mezzo derby. Ma al di là di questo abbiamo avuto occasione di sentire un grande ex da allenatore e da giocatore ludinese Giovanni Galeone che ha parlato sia del momento attuale della squadra e di ciò che ha messo in mostra in questa prima parte del campionato ma anche del nostro prossimo avversario di Marco Giampaolo. Perché? Perché Giampaolo è uno dei suoi figliocci calcistici. L'ha avuto come collaboratore a Pescara, poi a Allegri lo stesso. Allegri è stato anche qui a Udine come vice di Galeone, Gasperini. Insomma, ne ha lanciati tanti all'allenatore. Allora io ti saluto e ti restituisco la linea, andiamo ad ascoltare però proprio le parole di mister Galeone. Ho visto l'udinese, la prima Udinese, quella di Velasquez. Era una squadra che mi sembrava molto ordinata, messa ben in campo, però senza un cambio di ritmo, senza molte soluzioni offensive. Una squadra che quando la si affrontava di fronte era messa bene in campo. Bastava superarla lateralmente e difendevano non benissimo in area di rigore. Infatti subivano quasi tutti i gol appena venivano superati lateralmente. Poi l'ho rivista, adesso con Nicola, contro la Roma. Non è stata una partita bellissima né da parte della Roma né da parte dell'Udinese, però ha fatto un ottimo risultato. Alla fine avrebbe potuto anche raddoppiare e vincere più facilmente, però non ho un quadro ben preciso. Mi sembra che sia una squadra tecnicamente abbastanza valida, però con dei problemi per quello che riguarda la fase offensiva. La Sampdoria è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi, ha messo in difficoltà addirittura la Juventus. Marco, che è stato un mio collaboratore per anni a Pescara, lo conosco molto bene, è un allenatore molto preparato, attento ai dettagli, piccolissimi dettagli. Fa giocare la squadra tecnicamente bene perché ha giocatori di tecnica notevole. L'Udinese dovrà cercare di sfruttare soprattutto la velocità, le ripartenze, la qualità di De Paul, che credo che giochi, no? Perché non è squalificato. Sì, non è squalificato. La qualità di De Paul, che sicuramente è il giocatore con maggiore qualità, con tecnica, con possibilità sia di realizzare lui andando al tiro, sia di metterti dentro. Cioè è il giocatore, diciamo, migliore dell'Udinese, di gran lunga, migliore direi. E poi sfruttare un po', vediamo se gioca a lasagna, perché penso che abbia, ho letto che aveva qualche problema. E' recuperato, si è allenato regolarmente oggi? Poi c'è il Possetto, credo, no? Okaka. Okaka, che appena la prima partita ha già fatto vedere delle qualità notevoli, che nessuno pensava potesse essere così pronto proprio per un ritorno immediato. E quindi cercare di sfruttare le non tantissime possibilità che io credo concederà la Sampdoria. Perché la Sampdoria qualcosa concede dietro. Perché è una squadra abituata ad attaccare, a portare molti giocatori in area avversaria, nella metà campo avversaria, quindi la si può anche colpire. Qualche difetto difensivo ce l'ha ancora. Un breve strato dell'intervista a Galeone, che abbiamo voluto anticiparvi. Adesso un paio di notizie nazionali, prima di salutarci e di darvi appuntamento a più tardi. Una buona notizia che arriva dalla BCE. Il Consiglio Direttivo non considera un evento probabile la possibilità di una recessione in Germania e in Italia. E nel dibattito interno non c'è stata la sensazione che possa essere probabile nell'aggregato dell'Eurozona. Così il Presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte, dopo la riunione del Consiglio, che ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. In Italia c'è stato un leggero irrigidimento delle condizioni finanziarie, che però è stato concentrato soprattutto in Italia. Non si è diffuso nel resto dell'Eurozona, quindi non ci sono possibilità di recessione in Italia e in Germania. Così Mario Draghi. Invece il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, una decisione che contraddice la richiesta motivata di archiviazione della Procura e della Repubblica del Capoluogo Etneo. La domanda è stata ricevuta dalla Giunta per l'Elezione e l'Immunità Parlamentare del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri. Salvini è accusato del reato di sequestro di persona aggravato per avere abusato dei suoi poteri, privando della libertà personale dei 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo appunto della Diciotti. Salvini ha commentato, ci riprovano, rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole ma non ho neanche paura, continuerò a lavorare per difendere i confini del mio paese e la sicurezza degli italiani. Con questo ci fermiamo, ci ritroviamo in diretta alle ore 19. Buon pomeriggio in nostra compagnia. Buon pomeriggio in nostra compagnia.